Prima la sua soddisfazione per questo premio, sembra giusto? Grande, anche perché riconosco che non è facile darsi premi ai stranieri, principalmente un allenatore in un paese dove la qualità di allenatore è altissima, per questo molto riconosciuto, riconosciuto anche perché c'è un nome che non è che ho avuto il piacere di conoscere, ma tutti quelli che mi hanno detto, era già un giocatore moderno, intelligente, dopo anche con tantissima umiltà e serietà e questo mi fa doppiamente soddisfazione di prendere questo premio qua. Che cosa sta succedendo alla Fiorentina? Sta succedendo quello che può succedere a tutte le squadre, sono dei momenti che non si trovano al suo migliore, sono dei partiti che la sua qualità collettiva non apparisce, per questo fa anche difficoltà, trova anche difficoltà individuali e cerchiamo adesso di aggiustare le cose per trovarsi il più presto possibile e il calcio ci dà questa possibilità che domenica abbiamo già un'altra partita di avvicinarci o non solo avvicinarci, di esserci noi stessi. Dopo tanti elogi è arrivata qualche critica per Paolo Sosa, lei sente di aver sbagliato qualcosa nella gestione di questo periodo? Sicuramente perché se i risultati continuassero, sicuramente perché questo è il barometro anche delle critiche, quando i risultati non sono positivi, non solo le vittorie ma anche la qualità del nostro gioco, è normale che le critiche possano avvenire come hanno avvenuto. Come si esorcizza il rischio di mollare? Come c'è il rischio che la Fiorentina possa mollare? Spero di no, sono segnali del passato che possono fare pensare a questo, ma io di quello che ho trovato fino ad oggi sono diversi, sono tanti giocatori che hanno molta voglia di continuare a crescere e di competere. Mister, mi pare di aver capito, ha detto domenica prossima, c'è la possibilità di nuovo di riavvicinarsi in classifica. Quindi lei le possibilità di Champions League di agguantare quantomeno il terzo posto sono intatte secondo lei, nonostante il pareggio di ieri che sta quasi di sconfitta? Io questo è una motivazione in più proprio per non mollare anche perché io quando ho parlato già diverse volte di cultura anche pensando di aiutare i miei giocatori perché il calcio ci dà proprio un'esperienza di vita importante e dopo il calcio che è quello che loro sanno fare meglio, hanno proprio bisogno di non mollare mai, di prendersi sempre molte motivazioni, di dare sempre il massimo in tutto quello che fanno per dopo ottenersi il risultato. Quindi ci crede? Certo di sì. Ci crede al terzo posto, però ormai la Fiorentina non può più guardare solo in casa propria. Quindi sabato un altro scontro diretto per il terzo posto o per chi fa il tifo, Paolo Sosa, tra Roma e Inter? Io faccio sempre il tifo per il calcio. Mister, un pensiero su Giuseppe Rossi, ieri ha segnato, so quanto ci tiene, quanto lo segue, come lo vede in questo periodo? Lo seguo e sono molto contento per lui perché un giocatore come lui vive di gol, vive di minuti e la decisione è stata direzionata a quello, per questo mi soddisfa molto per il ragazzo che merita tutto il bene del mondo. Ieri il DS Prada è stato molto chiaro sul caso Ben Alouan, quanta amarezza c'è per questo giocatore? Amarezza per lui stesso perché a me piace vedere i protagonisti nel campo e mi dispiace per lui.